Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. Con questo video inizieremo la playlist di chimica che riprenderà tutti i vari argomenti della chimica di base che potranno esservi d'aiuto nello studio più avanzato della biologia. Premessa, con questi video non si intende sostituire i libri di testo, che ritengo siano essenziali per preparare dei compiti o degli esami, ma intendo portare un contenuto che possa essere d'aiuto come introduzione o ripasso di determinati argomenti. Detto questo, oggi risponderemo alla domanda che cos'è e che cosa studia la chimica. La chimica è una scienza sperimentale che studia la materia, la sua struttura, le sue proprietà e le trasformazioni. Se pensiamo alla pratica della chimica, ci immaginiamo una persona in camice bianco che studia in un laboratorio qualche sostanza contenuta in una provetta. Beh, sicuramente in molti casi il ruolo del chimico può coincidere con questa descrizione, dato che la chimica è fondamentalmente una scienza sperimentale e gran parte della conoscenza deriva da una ricerca di laboratorio. Tuttavia, oggi sono presenti anche sofisticati strumenti tecnologici che aiutano i chimici nei loro studi. Studi che possono essere fondamentali per cercare delle soluzioni, per esempio al problema dell'inquinamento, produrre nuovi materiali, sviluppare nuovi farmaci e così via. Inoltre, molte frontiere della biologia e della medicina sono attualmente esplorate a livello di atomi e di molecole, ovvero le unità strutturali su cui si basa lo studio della chimica. La chimica è quindi definita una scienza centrale che ha contatto con la maggior parte delle discipline scientifiche, che possono essere la biologia, la medicina, la fisica, la geologia o l'ecologia. Di seguito troverete dei consigli, anche personali, per studiare meglio la chimica. Spesso la chimica viene percepita un po' come una materia più complessa rispetto ad altri argomenti. Dal momento che va ad utilizzare un suo lessico specifico, molti termini tecnici ed è un po' come studiare una nuova lingua. Per studiare e capire la chimica, come per molte altre discipline, c'è bisogno di impegno e delizione. Ti consiglio quindi di seguire per bene le lezioni, concentrarti sul capire i concetti di base che sicuramente poi ti saranno d'aiuto in futuro. Inoltre, ti consiglio di riguardare gli appunti che hai preso a lezione il giorno stesso, se riesci, oppure nei giorni successivi, per fissare per bene quanto hai appreso. Ti consiglio inoltre di utilizzare dei libri di testo per integrare o approfondire degli argomenti che non hai chiaro a sufficienza. E in più, altro consiglio puramente personale, non schippare gli esercizi che trovi sul libro, perché questi possono esserti davvero d'aiuto per fissare dei concetti di base. Inoltre, cerca di sviluppare, come per ogni cosa che studi, un pensiero critico. Cerca di comprendere se hai veramente capito il senso di un termine o l'uso di un'equazione. In caso contrario, non esitare a confrontarti o con un tuo collega oppure chiedere aiuto direttamente al tuo docente. Ricorda che colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede lo è per tutta la vita. Bene, con questa citazione direi che il video si conclude qui. Diciamo che questo è un video un po' introduttivo che apre le porte a una nuova playlist. Come al solito, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti e di lasciare un like a questo video se ti è piaciuto. Ricordati inoltre di seguirci su Instagram e Telegram ai link che trovi qua sotto in descrizione per rimanere aggiornato su tutti i prossimi contenuti e le info sulla pagina. Su questi social infatti pubblichiamo ogni giorno diversi contenuti a tema biologico e scientifico. Dacci un'occhiata. Per il momento è quindi tutto. Grazie per l'attenzione e a presto! Grazie per la visione!